Ben ritrovati top e flop di Liverpool-Milan. Il Milan torna a casa con zero punti ma con tanta esperienza in più. È un match che è servito per far crescere la squadra, per far assaggiare il clima Champions dopo sette lunghi anni di assenza e servirà soprattutto a livello mentale perché queste sono le partite che fanno crescere un gruppo, che fanno crescere i singoli giocatori, che però evidenziano anche chi in questo momento sta attraversando una buona fase psicofisica e chi invece deve ancora migliorare. Ecco perché nella classifica dei top inseriamo sicuramente Mike Mignon, giocatore di totale affidabilità, un portiere sicuro tra i pali ed è anche un pararigori. Lo sapevamo perché in carriera ha parato più di dieci penalty. Ieri col Milan si è ripetuto, per la prima volta ovviamente in gare ufficiali, però è un giocatore che salva spesso il risultato. Con il Liverpool ha praticamente tenuto in piedi lui la partita dopo i primi 15-20 minuti. Il Milan dopo un quarto d'ora poteva già essere sotto di due reti, però la parata di Mignon su Salah ha sicuramente evitato una imbarcata iniziale e ha dato un pizzico di coraggio in più al Milan, che poi col tempo ha trovato gli spazi, ha cercato di soffrire meno la pressione asfissiante dei Reds allenati da Jurgen Klopp e poi nel finale di primo tempo ha trovato i gol con Rebic e Brian Diaz. È un Milan che però esalta in questo momento le qualità del proprio portiere. Mike Mignon per molti non era un portiere, come dire, in grado di sostituire Donnarumma. Mi ricordo ancora alcuni commenti non solo di tifosi ma anche di opinionisti e commentatori, però c'è da dire che evidentemente non avevano ben visto le prestazioni di Mignon in Francia, perché vincere la Ligue 1 con il Lille davanti al Paris Saint-Germain voleva pur dire qualcosa. Mignon è un portiere molto forte, è un portiere davvero bravo e lo ha dimostrato già in queste prime partite con la maglia del Milan. Ha preso l'eredità di Donnarumma, mentre qualcun altro fa panchina altrove e non ha ancora fatto l'esordio in Champions League, da quest'altro lato, dal lato rosso-nero c'è chi invece come Mignon si è preso lo scettro magari del miglior giocatore in campo per quanto riguarda la squadra rosso-nera, poi naturalmente per il Liverpool ci sono altri giocatori che si sono esaltati in questo 3-2 ad Anfield. Ma Mignon credo che sia stato il migliore in campo, ha dimostrato di saperci fare, un giocatore forte, un giocatore preparato e che dà sicurezza all'intero reparto. E proprio nel reparto difensivo credo che ci saranno, ci sarà da inserire altri due giocatori nella classifica dei top di Liverpool-Milane. Mi riferisco a Kier e Tomori, altra prestazione di rilievo per questi due grandi difensori. Kier porta esperienza, anche tranquillità, serenità, lo si vede in campo sempre concentrato, che guida la difesa. È un giocatore che in questo momento credo che tutti gli allenatori vorrebbero avere perché è il classico elemento di riferimento per un'intera squadra e lui in difesa comanda il gruppo, comanda il reparto arretrato. È un giocatore che anche in fase offensiva poi si fa valere. Nel finale c'è stato questo bellissimo colpo di testa in torsione che magari con un altro attaccante un po' più pronto lo si poteva sfruttare per il 3-3 finale. E poi c'è Tomori. Tomori credo sia stato un grandissimo acquisto da parte del Milan, 28 milioni sono più che giustificati. È stata una spesa utile per alzare il livello della squadra. Avere due baluardi difensivi come Tomori e Kier è importante. È vero che il Milan in effetti ha preso tre gol, quindi è strano che venga premiata la difesa se si prendono tre gol. Però in realtà se si analizza bene la partita sia Tomori che Kier hanno fatto un match di grande intensità, sempre sotto pressione, sono riusciti a limitare i danni e questo vuol dire molto. Non ci dimentichiamo che il Milan prima della partita contro il Liverpool era una delle difese meno perforate in Europa. Nei flop invece inseriamo Chessy e Benasser. Non mi sono piaciuti, in particolar modo l'Algerino. Credo che Chessy... Parliamo prima di Chessy che molto spesso è nel mirino della critica anche per la situazione del rinnovo. Lui non ci dimentichiamo che però arriva da un infortunio, quindi è sicuro che non può essere al 100% della forma. Tra l'altro appena tornato dopo l'infortunio ha dovuto giocare contro la Lazio e contro il Liverpool, due squadre che corrono tanto a distanza di tre giorni, quattro giorni. Quindi di conseguenza è ovvio che ci sia stato un calo fisico o comunque il giocatore non è ancora al 100% della condizione. Però da uno come lui che l'anno scorso ha abituato a prestazioni clamorose ci aspettiamo qualcosa in più. E poi Benasser che a mio parere è un giocatore di grande classe, un giocatore di grande visione di gioco, non a caso è il regista del Milan, però ecco sta mancando qualcosa anche a Benasser a livello atletico. Da quando è tornato dopo un anno molto difficile a livello di infortuni, soprattutto a livello muscolare, ha poi avuto il covid e questo ha inciso, ha influito sicuramente sul rendimento perché fino ad ora è stato un Benasser un po' sottotono e si è visto come si è andato in difficoltà contro un centrocampo fisico, rapido, veloce, intenso come quello del Liverpool. È stata una partita difficile per Benasser, probabilmente il peggiore in campo per il Milan. Questo non vuol dire che debba essere sempre così, ci auguriamo assolutamente una pronta ripresa anche a livello mentale per Benasser perché è un giocatore che può dare davvero tanto al Milan. È mancato molto l'anno scorso, quest'anno fino ad ora non lo abbiamo visto ancora nella sua forma migliore e ci auguriamo che possa presto farsi vedere nelle sue vesti anche da titolare. Nel frattempo credo che Tonali probabilmente meriti più spazio perché evidentemente dà più sicurezza. Il calcio va vissuto anche diciamo a fasi, nei momenti di up e di down dei giocatori. Ecco Tonali sta vivendo una fase acuta, una fase alta del suo momento psicofisico e quindi va sfruttato anche in ottica Juventus. Non mi è piaciuto nemmeno tanto il match giocato da Saleme Kers, probabilmente anche lui in difficoltà. È entrato però in occasione del gol del Milan, del primo gol bellissimo del Milan con il fraseggio Diaz, Saleme Kers, Leao e passaggio per Rebic che ha tirato di prima e ha segnato il gol dell'1 a 1, però anche lui un po' in difficoltà contro la fisicità dei giocatori di Klopp. Quindi sono questi i top e i flop della partita Liverpool-Milan. Lasciate i vostri commenti, naturalmente è sempre tema di discussione, inserire i migliori e peggiori di una partita, ma sono aperto insomma anche al dibattito e al confronto. A presto con nuovi video e nuovi aggiornamenti da Milanello, soprattutto in vista di Juventus-Milan.